20 ordinanze di custodia cautelare eseguite con decine di perquisizioni hanno concluso in mattinata l'operazione Thunderstorm Tempesta dopo sette mesi di indagini condotte dai carabinieri per smantellare un vasto giro di spaccio di droga tra le province di Pistoia e Prato con centro acquarrata dove tutto è iniziato con l'arresto in piazza Aldomoro di un pusher da parte dei militari della locale stazione. All'interno di questo gruppo vigeva sicuramente un forte senso di solidarietà fra di loro, nello specifico mancanza di stupefacente per esempio da parte di uno spacciatore c'era un altro spacciatore che era disposto a sopperire la mancanza in una determinata località dello stupefacente con il proprio. Le indagini sono stati arrestati in flagranza, 10 spacciatori, sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 9 arresti domiciliari e altre misure cautelare con due spacciatori, un 32enne albanese di Campi Bisenzio sorpreso con mezzo etto di cocaina e un etto di hashish e un 28enne marocchino di Prato con mezzo chilo di cocaina. Finiti in manetti e stamani, operare sono stati 120 militari con il supporto di elicotteri e unità cinofile sotto sequestro tra hashish, cocaina e marijuana sono finite decine di migliaia di dose di droga per un valore di circa 180.000 euro. Gli indagati sono albanesi marocchini italiani pregiudicati che non avevano interrotto lo spaccio neppure nei giorni del lockdown più rigido. Un tratto soggettivo che ha caratterizzato le valutazioni cautelari delle ordinanze eseguite in dato odierna è stato quello anche dello spregio delle limitazioni alla circolazione che ha caratterizzato l'operato dei soggetti oggi tratti in arresto. Oltre 20.000 intercettazioni telefoniche hanno portato ai risultati dell'importante indagine con gli spacciatori che parlavano per pochi secondi a telefono con i clienti usando appositi codici. Per fermarne due si è anche simulato un incidente stradale. Erano in grado in pochi secondi di già decidere quale tipo di stupefacente e in quale quantità con terminologie del tipo la gallina indicava un certo tipo di sostanza stupefacente la marmitta piuttosto che il trattore o ci vediamo per un caffè e con questo semplice scambio di battute già il venditore sapeva quale quantità di stupefacente e di che tipo. Lungo la strada statale fiorentina che da Poggio a Caiano conduce a Quarrata abbiamo utilizzato un carattrezzi per simulare un sinistro stradale grazie al quale gli spacciatori sono stati costretti a fermarsi e li abbiamo bloccati con mezzo chilo di ascici.